Danno gli occhi, era vinto, era vinto. Pausa sceneggiata, così invece. Diventa un nuovo caso l'audio della telefonata di Claudio Lotito, presidente della Lazio, con un suo collaboratore, registrata di nascosto sulla visita ad Atenere alla Sinagoga di Roma. Una vista organizzata per porre fine allo scandalo delle foto di Anna Franchi, maglia romanista, ma che a causa dell'audio si è rinfocolato. In realtà dall'audio di Lotito si capisce poco. Forse che è indispettito dal fatto che probabilmente la squadra non verrà ricevuta da nessun dirigente della Sinagoga. E quindi il famo una sceneggiata sembra quasi un rimprovero rivolto a chi pare non dare peso al gesto riparatore della Lazio. Comunque tra Lotito e la comunità ebraica al momento è calato il gelo in attesa di un nuovo incontro chiarificatore. Durante la visita le parole del presidente della Lazio erano state nette. La nostra associazione dei concordi di ogni e qualsiasi forma di xenogomia, antirazzismo, antisepidismo. La società ha sempre messo in campo tutta una serie di azioni forse a prevenire e a reprire certi fenomeni. Ieri sera poi il turno infrasettimanale non ha concesso tregua alle polemiche. Durante l'omaggio alla memoria di Anna Franchi, molti stati ci sono stati cori e fischi di protesta da parte degli Ultra. A Bologna i tifosi della Lazio hanno cantato Menefrego, fischi a Firenze, cori a Roma e Torino anche. Per di più pare che la stessa corona di fiori deposta alla sinagoga sia stata gettata questa notte sul Lungotevere. Ancora non si sa da chi. Nel frattempo sono 20 le persone identificate tra i tifosi della Lazio, molte legate al gruppo degli irriducibili, anche tra i minorenni.